Dal ponte di Tiberio alla Darsena in bici. Appuntamento sabato 14 giugno alle 16.30 per la biciclettata cittadina a conclusione del progetto partecipativo I Like My Bike, Movimenti Under 30, realizzato dall'assessorato all'ambiente e alle politiche giovanili e dal piano strategico di Rimini in collaborazione con decine di giovani riminesi. I ragazzi hanno organizzato questo evento che inizia con una biciclettata alle 16.30 dal ponte di Tiberio fino alla Darsena di Rimini dove lì avremo tutti gli stand con i ragazzi che hanno partecipato e che presenteranno alla cittadinanza tutti i progetti che hanno sviluppato Movimenti Under 30 ha aperto il confronto con i giovani attraverso alcuni laboratori dedicati al tema della mobilità attiva e degli spazi della città. I ragazzi hanno lavorato insieme per progettare un sistema di percorsi ciclabili corredati di spazi e servizi. I tavoli di lavoro seguiti da esperti e facilitatori hanno operato in particolare su quattro temi. Redazione di un biciplan, comunicazione della nuova mobilità, nuova mobilità e spazi delle culture e i mestieri della nuova mobilità. Io ho partecipato presentando un progetto che è il City Bike Express che è un servizio per la comunità sia per i cittadini che per le attività commerciali di consegna in bicicletta che possono essere effettuate sia in maniera veloce, in maniera più economica rispetto ai mezzi tradizionali, sia in maniera ovviamente ecologica. Rimini io credo che sia una città a misura di bici. Il problema è capire se i cittadini hanno voglia e hanno una spinta a poter utilizzare la bicicletta. Ed è quello che nel nostro gruppo abbiamo cercato di fare. La bici è importante per una serie di fattori che è quello ambientale, quello della salute, quello della sicurezza e soprattutto quello che ci fa risparmiare un sacco di tempo e di spazio anche. Il BiciPlan è stato redatto dai ragazzi sostanzialmente analizzando quelle che sono le criticità della città di Rimini nell'uso della bicicletta. Ha individuato i vari percorsi, quelli un po' più accessibili, quelli che hanno bisogno di ulteriore manutenzione per dare proprio delle indicazioni alla cittadinanza di come muoversi in bicicletta in totale sicurezza. I risultati del BiciPlan saranno recepiti all'interno dell'azione dell'amministrazione comunale che ne farà proprio un documento sul quale andrà a sviluppare poi la mobilità attiva della città. Grazie.